Take it easy, take it slow We can do it just like before So take it easy, take it easy Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Io sono Cecchinato E oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video di Fortnite Perché dalla patch di ieri, non so se l'avete visto Ma hanno introdotto innanzitutto sta mappa Che è una figata, cioè il palco principale Dove adesso vi dico cosa servirà La plazza, mi sembra, aspetto a te che mi sposto Non vedo bene Sì la plazza E un bot di sfide Che possiamo fare con i nostri amici Tra cui il campo da calcio La challenge del deltaplano La challenge di sto quad Inoltre ci sono molti riferimenti Che cacchio è successo Ci sono molti successi Ci sono molti indizi Tra l'altro sulle vecchie season Contro qui la barca Il mostro E da qualche parte c'è fattoria Tanti indizi Che vedremo in un trappi più avanti Diciamo anche qui vedete C'è il pirata Il robot Insomma tanti indizi Alle vecchie season Ma oggi siamo qui per parlare Di come si riscatterà Il backpack Epico Tra l'altro Epico Ehm Diciamo a Leon Ecco E' veramente molto bello Tra l'altro Vi lascerò qui Una clip Di come si vede il backpack Tra l'altro pure reattivo Ed epico Come vi ho già detto Come si riscatterà questo Eh Backpack Beh raga Basterà Semplicemente Andare a palco principale Aspettare che la epic Annunci un Un evento Quindi un Una live Diciamo Un live Noi dovremo guardare Questo live E una volta che l'avremo visto In teoria Anzi sicuramente Ci daranno Il backpack Epico Leon Tra l'altro vi lascio qui anche l'immagine Vi lascio A fine Appena finisco di parlare Vi lascio la clip Di come si vede in game E direi che è tutto Raga Ditemi Cosa ne pensate questa mappa Io l'adoro E' veramente fighissima E' tipo una specie di Lobby Dove rilassarsi No Molto molto carina Tra l'altro c'è il boost Da battaglia Che aspettate Volevo vedere anche Cosa c'era Perché In teoria Si può anche cliccare Vabbè ragazzi Questo innanzitutto E' come riscattare Il backpack Ci saranno Molte Alte ricompense Poi Che dovranno essere annunciate Coda per la battaglia reale Ah Qui andiamo in battaglia reale Figata Ditemi cosa ne pensate Sono molto curioso Veramente carino Come mappa Veramente Bella Bella Direi che ci possiamo fermare qui Un velocissimo video Giusto per dirvi Come si Potrà ottenere questo backpack Noi ci vediamo Domani Con un nuovo video Tra l'altro Fighissime anche Le cose che si lanciano Veramente molto carine Bella raga Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie per la visione!